Perchè mangi da solo la prugna? Non fai proprio il serpaccio! INCULATI! Mi sto facendo sentire esonerato! Ciao saluta per i fan! Ciao! Ciao BAN! Ciao come stai? Guarda che non sono quelli del tram eh! Non sono quelli del tram? No per niente! Ma chi è che lo fai vedere sto video? Avvi jeans? Eh ma che coglioni! Avvi jeans? Vuoi che lo pubblichi nella pagina? No no ci manca... Ciaaaaaa! Andiamo dalla Sara! Sara che cazzo stai facendo? Non so dove metterlo! Sai dammi dammi che cosa non so dove metterlo! Il carpaccio! Il carpaccio! Questi doppi sensi continui! Dove vai? Bello essere donna! Bello essere donna! Come ti senti infatti? Bene bene grazie! Saluta! Ciao!